Sì, ancora io, anche perché ho una collega, Silvia Salardi, la quale ormai da qualche anno lavoriamo anche su questi semi, non abbiamo mai lavorato insieme. Anche il tema, lei insegna, scusate, adesso dopo è scontato il fatto che ve lo conosciate, ma in realtà ve lo dico, insegna filosofia del diritto, come me, e ha una serie anche di insegnità bioetica e ha avuto anche una cattedra su questi temi, Marie Curie, no, Jean Monnet, no, Jean Monnet, perdonate, Jean Monnet qualche anno fa e speriamo in realtà insomma che quel genere di attività riprenda. Anche lei un argomento tutto sommato contiguo, no, a questi temi più vicini al nostro essere non tanto anime quanto esseri umani biologicamente in qualche modo limitati, Silvia ci parlerà di privacy e neuroscienza, un argomento veramente anche questo molto molto all'ordine del giorno. Grazie, buongiorno a tutti, intanto ringrazio moltissimo il professor Rossetti e Redopen per questo gradito invito, per me è la seconda volta e insomma mi fa molto piacere ripetere l'esperienza in questo specifico contesto. Eh sì, in realtà appunto il mio tema è privacy e neuro e neurotecnologie, l'idea è quella di dare alcune informazioni, di far capire un po' quali sono le questioni aperte, non darò risposte perché sul tema della delle neurotecnologie ci sono sostanzialmente solo questioni aperte a livello istituzionale, a livello giuridico e nel dibattito etico prima di tutto. E allora cominciamo col dire che le neurotecnologie diciamo sono considerate l'ultima frontiera della delle sfide alla privacy, questo perché diciamo diversamente dalle origini del concetto di privacy che in questo contesto ovviamente a tutti noto ma l'idea era quella di trovare no alla fine degli anni del insomma nel 1890 un bilanciamento tra il diritto di informare, il diritto a essere informati e il rispetto per la vita privata. Qui con le neurotecnologie non entriamo tanto e solo nella vita privata ma entriamo in un momento prima, cioè in quell'architettura che consente la costruzione della vita privata dei soggetti che è la nostra mente. In effetti appunto le neurotecnologie sono in grado oggi di monitorare, registrare e alterare, addirittura alterare l'attività neuronale, questo è dimostrato nel contesto medico oramai già da alcuni decenni, sia i benefici sia i rischi di queste neurotecnologie consentono di intervenire sul livello sensoriale nel senso che ad esempio malati di Parkinson possono avere una miglioria del loro tremore attraverso l'impianto di un cipio, un controllo quindi a distanza, consentono allo stesso tempo di intervenire sul livello emotivo perché certe forme di depressione non curabili con altri trattamenti hanno dato buoni risultati con l'intervento neurotecnologico in particolare con la stimolazione profonda e sul livello mnemonico, quindi ad esempio malati di Alzheimer hanno la possibilità di avere un recupero almeno in parte di costrutti mnemonici e di flashbacks in questo ambito. Nell'ambito medico sono conosciuti sia i benefici sia i rischi di queste neurotecnologie e uno dei rischi maggiormente collegati, proprio perché sì è possibile l'alterazione dell'attività neuronale è anche quello di avere delle modifiche dell'identità personale e questo si è verificato, ci sono stati casi. L'ambito medico quindi è una fotografia molto interessante e anche poi vedremo fra poco dei problemi legati alla privacy. Voglio solo aggiungere che proprio in questo contesto ci sono ulteriori sviluppi per l'utilizzo di queste neurotecnologie che sono quelle diciamo relativi a pazienti che hanno disordini di coscienza, che si trovano in stati non vegetativi ma in quelli che spesso sono stati diagnosticati così ma erroneamente e che hanno invece una loro attività di coscienza ma che non riescono a esprimerla all'esterno e allora le neurotecnologie vengono adesso incentivate per ottenere il consenso, si pensa di poterne ottenere il consenso da questi pazienti per i trattamenti a cui attualmente sono sottoposti senza un consenso diretto. Ora è chiaro che in questo ambito noi monitorando e alterando l'attività neuronale abbiamo la possibilità di raccogliere i brain data, cioè raccogliamo sostanzialmente dei dati che sono dei dati neuronali. Il primo problema aperto su questi dati è che non c'è una condivisione su quale sia la loro definizione, cioè cosa sono questi brain data, sono categorie sensibili di dati che consentono l'accesso a informazioni che derivano dal nostro cervello, c'è chi ritiene che siano in realtà categorie di dati che consentono l'accesso diretto ai processi mentali, quindi senza un passaggio così importante o senza un rilievo così importante sul tema della decodifica delle informazioni e c'è chi ritiene che debbano essere trattati come i dati che noi otteniamo da altri organi, dai tessuti. Questa è stata la strada che è stata praticata dalle proposte di introduzione di neurodiritti, una delle quali non è andata a buon fine, ma sulla quale si è molto discusso in Cile, di revisione costituzionale per introduzione di neurodiritti, diritti che quindi proteggano il soggetto, proteggano la privacy mentale, che però era basata più che altro su questa idea che i brain data possano essere in un qualche modo associati ad altre tipologie di dati. C'è da dire che appunto questi dati non sono definiti nel GDPR, questa è un'altra questione aperta, nel senso che nel GDPR noi abbiamo finalmente ottenuto la definizione dei dati genetici, la definizione dei dati biometrici che da tanto tempo insomma si richiedeva, venissero indicati anche in quel percorso, ma non c'è questa definizione, quindi diciamo il problema è come applicare o se applicare questa normativa. Se rimaniamo ancorati all'ambito medico, i problemi ci sono perché ovviamente la raccolta dei dati anche in quel contesto non è che tuteli completamente i pazienti, però abbiamo un certo circuito, un certo recinto di normative che proteggono sostanzialmente il paziente. I problemi più grossi oggi e di grande discussione a livello istituzionale da parte dell'UNESCO, da parte del Consiglio d'Europa, da parte anche del Parlamento europeo, nonché del nostro garante per la privacy, è l'utilizzo delle neurotecnologie direttamente vendute al consumatore, perché le neurotecnologie direttamente vendute al consumatore già esistono, già sono sul mercato da alcuni anni, consentono di fare diverse cose, forme di neurostimolazione per motivi ricreazionali, per rilassamento, per potenziamento cognitivo, che è tutto un tema grossissimo nel quale adesso non mi addentro, e consentono però anche, ad esempio, di lanciare delle applicazioni, quindi sono in grado di leggere un'intenzione, sì o no, di lancio di un... e quindi diciamo le neurotecnologie vendute direttamente al consumatore sollevano ancora più problemi rispetto alla raccolta di questi dati, di questi dati neuronali, in quanto oltretutto, diciamo, la raccolta di questi dati e la privacy protetta in questo contesto è sicuramente qualcosa che va allargato come riflessione sul fatto che la protezione della privacy nell'ambito delle neurotecnologie riguarda sia il tema appunto della sfera privata o vita segreta, come era stata indicata prima dal nostro garante, sia ovviamente la protezione dei dati, quindi rientrano tutti e due gli aspetti in maniera molto incisiva, quindi quanto previsto in linea generale, però lì si parla di vita privata, l'articolo 7 della Carta Europea dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e la protezione dei dati all'articolo 8. Però, diciamo, il problema grosso è capire come proteggere questa privacy mentale. C'è stato un grande entusiasmo a partire soprattutto dal 2015 per questo concetto di neurodiritti che ho già richiamato. Molta letteratura si era spinta inizialmente con la volontà di andare spintamente verso quella direzione, appunto la proposta del CIL è stata la prima sostanzialmente in questo senso, ma poi fallita. Ma il problema che poi nella riflessione degli ultimi anni si è posto è intanto neurodiritti, quanti neurodiritti, quali neurodiritti dobbiamo inserire nelle riforme costituzionali, perché c'è chi ha parlato di libertà cognitiva, di introduzione, cioè di varie categorie, libertà cognitiva, privacy mentale, integrità mentale, continuità psicologica. C'è chi oggi su questo tema comincia a dire, beh, noi nella Carta Europea dei diritti fondamentali abbiamo una protezione per l'integrità fisica e mentale, magari basterebbe introdurre, no, come sorta di grimaldello, la tutela della libertà cognitiva. C'è chi però sostiene, nell'ambito del dibattito sui neurodiritti, che la via dei neurodiritti ha anche degli aspetti negativi. Intanto richiede del tempo perché bisogna effettuare delle riforme costituzionali. Inoltre rischia, diciamo così, di portare a quella che è già stata indicata prima come un problema, l'inflazione dei diritti. Già Bobbio nel suo libro L'età dei diritti sosteneva che, insomma, il problema non è quello di allungare la lista dei diritti fondamentali, ma quello quando li abbiamo, di renderli effettivi. E anche quindi la questione del tempo che era venuta fuori prima, anche qui, insomma, quanto tempo ci vuole perché poi questi neurodiritti diventino effettivi, vengano applicati dalle corti. E allora, in questo dibattito che inizialmente, con Bublitz nel 2015, Andorno e Ienca nel 2017, era andato così entusiasticamente verso questo concetto dei neurodiritti, sia un attimino, diciamo, non dico arenato, però ci sono un po' di ritorni sulle proprie posizioni e c'è chi sostiene che in realtà, per garantire una tutela già attuale alla privacy mentale, sia sufficiente un'estensione interpretativa di quello che già abbiamo, cioè dell'informational privacy. Un'informational privacy che, peraltro, quindi consentirebbe di attuare il diritto all'anonimizzazione, il diritto alla protezione dei dati, all'accountability, eccetera, tutti strumenti che noi abbiamo già a disposizione e che sono sostanzialmente nel GDPR. C'è un altro aspetto importante che si collega a questo discorso sulla privacy, se lo vogliamo appunto allargare al fatto che la privacy non è un diritto solamente come controllo sui propri dati, ma che diventa uno strumento per tutelare altri diritti, l'autonomia e il libero sviluppo della propria personalità barra identità, ed è il fatto che, diciamo così, l'informational privacy potrebbe essere vista, come dovrebbe essere di fatto vista anche per altre questioni, come uno strumento che assicura e nutre l'autonomia, l'autonomia come comunicazione, l'autonomia come controllo e l'autonomia come identità. Perché il rischio è che, il rischio che c'è, come con tutte le tecnologie fino adesso, con le neurotecnologie però che oramai anche loro si sono immesse nel mercato, nelle zone grigie della normativa e sono già vendute direttamente al consumatore, il rischio è che il consumatore non riesca a pesare benefici e rischi, come può invece avvenire nell'ambito medico grazie al fatto che il paziente si può comunque consultare con il medico, con gli esperti del settore. E la privacy quindi deve essere, cioè diciamo si parlava prima di sviluppo di una cultura della privacy, deve ulteriormente venire sviluppata, nel senso di far capire ai consumatori che la privacy come riservatezza e come segretezza è un valore aggiunto e molto importante. La privacy rappresenta o può rappresentare laddove viene tutelata e garantita in primo luogo dallo stesso consumatore, la zona è stata definita una zona di relativo isolamento dallo scrutinio esterno e quindi un contesto nel quale io dapprima riesco a formare la mia autonomia e la mia personalità. altrimenti questo tipo di privacy e questo tipo di autonomia diventano semplicemente la risposta indotta a uno stimolo di mercato, che è quello che un po' sta diciamo così succedendo. La citazione e l'idea appunto della privacy come zona di relativo isolamento viene fuori in un articolo molto interessante del 2000 di Cohen-Julie pubblicato sulla Stanford Law Review che consiglio a tutti di leggere perché è veramente un articolo scritto molto bene ma soprattutto che mette in chiara connessione la privacy, l'autonomia e l'identità personale. Termino questo mio breve intervento sulle questioni aperte dicendo che tutte queste tematiche, soprattutto il problema delle neurotecnologie direttamente vendute ai consumatori, il fatto che inficino l'autonomia e il libero sviluppo della propria personalità, che ci siano problemi di privacy nei termini in cui li abbiamo già definiti più volte, ha fatto sì insomma che gli interventi istituzionali degli ultimi 3-4 anni che partono appunto dalle istituzioni UNESCO, Consiglio d'Europa, Parlamento Europeo eccetera continuino a porre l'attenzione sulla necessità si dicono in questi documenti di approccio precauzionale, regolativo precauzionale, quindi chiamano in causa il principio di precauzione, è stato richiamato anche precedentemente. Il principio di precauzione che viene richiamato anche con urgenza, si dice ci vuole una regolazione di questo tipo. Io voglio fare un'osservazione un po' provocatoria, intanto che questo tema delle neurotecnologie direttamente vendute al consumatore, della necessità di intervenire con un approccio precauzionale, era già presente dal 2009, soprattutto in un documento omnicomprensivo che il Parlamento Europeo aveva elaborato con il suo panel for the future of science and technology sullo human enhancement, dove c'è una sezione dedicata alle neurotecnologie e si dice lì insomma bisognerebbe intervenire con un approccio precauzionale. Se ne parlava nel 2009, siamo nel 2023, nel 2021 il Consiglio d'Europa urgente bisogno di approccio precauzionale. Forse l'approccio precauzionale doveva essere applicato prima perché il principio di precauzione non è qualcosa che si applica dopo quando qualcosa si è già inserito nella società e ha già trovato delle applicazioni abbastanza radicate. Qui siamo in una fase di approccio preventivo ma non è più la precauzione. L'approccio precauzionale avrebbe richiesto di intervenire prima valutando in maniera forse più accurata quanto queste neurotecnologie direttamente vendute al consumatore potessero essere diciamo così rischiose in tanti termini, non solo per la raccolta dei dati ma anche per l'integrità diciamo fisica mentale perché quelle soprattutto usate a fini di neurostimolazione per quello che sono i miei contatti con il mondo medico mi dicono insomma sono piuttosto pericolose anche se vengono oramai vendute perché già nel momento nel contesto medico non è conosciuto l'esatto ripercussione di quando io uso una neurostimolazione sul cervello di un soggetto beh lì insomma non abbiamo neanche nessuno che possa supervisionare o controllare l'utilizzo di queste neurotecnologie. Quindi mi sembra un po' diciamo così continuare ad utilizzare l'idea di questo principio di precauzione che in realtà andava utilizzato molto prima. Lo stesso Stefano Rodotane parlava nel suo libro del 2012 il diritto di avere diritti e lo vedeva come un principio che aiuta a costruire altri principi a realizzare altri diritti fondamentali ma va applicato nei modi eh corretti nei modi in cui questo principio richiederebbe di essere di essere applicato. Grazie per la vostra attenzione.